Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo volume pubblicato da Patron Editore dal titolo Antologia del Francese d'Italia, XIII-XV secolo, a cura di Francesca Gambino e Andrea Beretta che abbiamo il piacere di avere nostro ospite perché ci parli di questa antologia. Quindi come mia abitudine io lascio subito a uno dei curatori il compito di parlarci di questa antologia davvero molto interessante. Prego, a lei. Grazie mille, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Sicuramente questa antologia senza l'aiuto di Francesca Gambino e la collaborazione con lei non sarebbe stata possibile. Quindi in questo momento la professoressa è negli Stati Uniti, non poteva collegarsi però ci tiene anche lei a partecipare a salutare tutti i visualizzatori, gli ascoltatori insomma del video. Sì, in effetti la nostra antologia non giunge diciamo nuova nell'ambito degli studi sul franco italiano perché già nel 1941 c'era stata l'edizione di un volume antologico curato da Antonio Viscardi, professore dell'Università di Milano che aveva diciamo pionieristicamente aperto un po' la strada a questo tipo di pubblicazioni. Noi però ovviamente abbiamo voluto dedicarci a questa antologia cercando un po' di fare il punto sul quadro degli studi avvalendoci della collaborazione di praticamente di alcuni tra i più autorevoli esperti in materia e cercando di rendere il volume diciamo fruibile sia agli studenti che agli studiosi che a lettori appassionati o interessati in qualche modo e di renderlo anche diciamo un utile punto d'appoggio per chi consulti il repertorio italiano il repertorio informatizzato dell'antica letteratura franco-italiana, sigla Rialfri che è diretto da Francesca Gambino e che pubblica online praticamente un corpus di tutti i testi oggi noti di questo tipo, di questa branca della letteratura medievale. Quindi sì, se posso un attimo condividere, prima del PowerPoint volevo far vedere l'indice l'indice della nostra antologia, vediamo appunto, c'è un'introduzione storico-letteraria di Francesca Gambino, poi edizione linguistica curata da me e infatti di storia della lingua parleremo tra poco, cioè vorrei presentare proprio questo che è uno dei centri focali del problema della tradizione franco-italiana e poi notiamo che l'organizzazione della materia si svolge in questo modo, cioè prima una sezione dedicata all'epica di Francia con i testi antologizzati seriati in ordine cronologico di composizione del testo base, quindi la chanson de Roland del manoscritto V4 in realtà è di metà 300, ma siccome Roland è di fine, la chanson de gesto è datata a fine undicesimo secolo, viene prima nell'elenco dei testi. Poi abbiamo l'epica di materia classica alessandrina, il romanzo, romanzo arturiano e appunto vediamo i trattati storiografici e testi cancellereschi anche nel francese di Napoli e poi una curiosità risalente a metà 400, i titoli del Castello della Manta e Provincia di Saluzzo, che sono appunto delle iscrizioni che in pratica spiegano e rendono fruibile dal pubblico un insieme di raffigurazioni di nove prodi e nove eroine appunto che trovano la loro collocazione in questo castello. Seguono la bibliografia e seguono gli indici che sono stati pensati proprio, soprattutto l'indice delle forme commentate, come un ausilio alla consultazione tramite elenchi alfabetici di tutte le caratteristiche linguistiche principali. Poi abbiamo ovviamente autori e opere, personaggi, studiosi, luoghi, manoscritti e stampe antiche. Ma tornando appunto a condividere la presentazione che ho preparato, mettiamo schermo intero, ecco si dovrebbe vedere, si può dire che appunto dal punto di vista linguistico noi abbiamo in sostanza, potremmo chiamarlo uno spettro, uno spettro che si aggira nel campo della tradizione filologica romanza da circa un secolo e mezzo e si tratta appunto del fenomeno di cui stiamo parlando, che passa sotto il nome di Franco Italiano. Tale ipostasi è goduto di un'attenzione degli specialisti del tutto peculiare, prova ne solo le etichette classificatorie che si sono succedute nel corso degli studi filologici sul tema. Esse curiosamente di volta in volta sono diventate tutt'uno con il referente e hanno imposto dunque un'evoluzione che rispetto ad altre aree del dominio filologico si è concentrata più sulle denominazioni che sull'affinamento di metodi, analisi proposte. Tale sviluppo non è però coinciso con un progresso reale delle conoscenze, ma ha generato sempre nuove soluzioni metaforico-critiche, le quali invece di contribuire la comprensione dell'oggetto si sono concretizzate in catacresi, presto sclerotizzate e dunque sostituite via via da nuove onomaturgie, destinate inevitabilmente anch'esse ad essere superate. E se poniamo ad esempio per la letteratura provenzale gli studi sui canzonieri delle origini, italo-romanzi, il progresso delle conoscenze filologiche in epoca moderna ha conosciuto un accumulo sostanzialmente di tipo sedimentario in cui ogni strato della critica ha contribuito al cammino delle conoscenze senza che l'evoluzione metodologica si trasformasse in rivoluzione epistemologica, invece l'episteme del franco italiano è andata incontro a rivolgimenti sostanziali in un caleidoscopio di forme diverse. A fondamento di tali mutevoli prospezioni è stata sempre posta la lingua dei nostri testi ed è stata propria diversa interpretazione del fenomeno linguistico che ha determinato quei cambiamenti di paradigma a cui si accennava, i quali appunto più che squarciare il velo di maglia, per così dire, ne cambiavano invece la foggia, il colore e il tessuto. A conclusione di questa brevissima presentazione vedremo come forse sia utile ritornare, da un punto di vista più metodologico che definitorio, alla considerazione che del franco italiano veniva data in un'epoca di poco prossima alla produzione e alla prima circolazione dei testimoni manoscritti, recanti opere afferenti a quella tradizione. Le informazioni in tan sesso verranno fornite proprio dagli inventari delle biblioteche signoride. Per iniziare diamo uno sguardo a ciò che fu la scoperta moderna del franco italiano da parte di alcuni filologi francesi in pieno secondo impero. Nel 1856 infatti François Gessart, Léon Gautier e Henri Michelin compirono una missione a Venezia per consultare i codici francesi di conservati, in massima parte derivanti dall'ascito Recanati del 1734-35. E così scrisse Gessart, lo vedete, a proposito dell'insieme della collezione visionata dai tre. E quindi quasi tutti i testi di antichi poemi francesi che si trovano a Venezia hanno subito il medesimo genere di alterazioni. La lingua è né più o meno italianizzata e per conseguenza la misura dei versi è orribilmente rotta e spezzata. Quindi un'orribile prosodia e nella fase precedente, sempre nello stesso articolo, un linguaggio corrotto e orrendo. Ma questi giudizi di valore, se rapportati al contesto storico-politico dell'epoca delinata grandeur all'ombra di Napoleone III, possono essere meglio inquadrati come espressione accademica di quel nuovo slancio pubblico. Nasce già qui, però, in questa concezione in sostanza nazionale, ma diciamo pure nazionalistica, quella distinzione tra due poli interferenti tra loro, qua ancora in modo del tutto sfocato, il francese, l'italiano, che avrebbe condizionato fino ad oggi la lettura del fenomeno quasi da parte di tutti e che può essere letta come la causa principe, il motore immobile delle trasmutazioni e trasvalutazioni epistemiche che hanno caratterizzato la storia degli studi filologici sul tema, trasmutazioni che l'hanno per così dire isolato dal resto degli sviluppi dei metodi filologici e linguistici, imponendo a tale branca, in realtà solo referenzialmente distinto dalle altre, un'impronta anche scientificamente ed epistemologicamente diversa, per indagare la quale avrebbero dovuto essere forgiati strumenti propri e nuovi, mai però sentiti come del tutto adeguati, lo si è anticipato all'analisi e dunque di continuo rivisti e modificati. È pertanto probabilmente nella dicotomia stessa franco-italiano, l'origine della poria. Tale dicotomia agisce fin dal primo aspirante sistematizzatore della tradizione, Gaston Paris, con la sua ben nota tripartizione che poi è stata ripresa e riformulata fino a diventare quasi assiologica in alcuni contributi di filologi italiani, Giulio Bertoni prima e poi Antonio Viscardi, lo citavamo, nell'antologia del 41, che è appunto una lontana antenata, si può dire, del nostro volume. La ripartizione di Viscardi ce l'avete qui, c'è testi che sono copie di originali francesi, nei quali si sono introdotte alcune modificazioni o ai quali si sono fatte delle aggiunte, poemi che sono rimaneggiamenti spesso assai liberi di testi francesi, in cui si introducono anche invenzioni nuove e originali, e infine opere che sono creazioni originali di autori italiani che scrivono in francese. Tali tre categorie sono da integrare con l'aggiunta proposta da Bertoni di una quarta classe di poemi perduti. Come si può notare, l'aspetto linguistico che ispira tale suddivisione della tradizione, ma fonda la propria sussistenza su un apriorismo concettuale, cioè che prima vengano le copie e sono poi rimaneggiamenti le creazioni originali. Ma non è così. Infatti, le prime opere franco-italiane a noi pervenute risultano essere proprio composte, con ogni probabilità, da scriventi italo-romanzi, sia pure ispirate fonti latine, accertate o iniziariamente reperibili mediante scavi eseggetici. Pensiamo alle Nancette, probabilmente la prima opera della tradizione franco-italiana, composte in ambito veronese-padovano, oppure alle Stuer de Venise di Martin Dacanal. Anzi, proprio da Martin Dacanal deriva la frase langue française court parmi les mondes, cioè la lingua francese corre nel mondo, per il mondo, che attesta come nel XIII secolo il francese fosse la prima scelta per redigere cronache in lingua volgare, anche per un veneziano. E del resto ciò non deve stupire, poiché dopo la quarta crociata del 1204, Venezia entrò a pieno titolo anche politico nell'area mediterranea. In quelle zone era il francese la lingua franca, ma un francese già portato ad uno stato di coine, per la mescidazione tra gente originaria della Normandia, della Piccardia, delle Fiandre e della Francia dell'Est, ma anche di territori di lingua d'or, con in aggiunta tratti specifici sviluppatisi proprio in quei domini. Altro esempio duecentesco di opera composta originalmente in francese è il De Visemans du Monde, il Milione, di Marco Polo e Rustichello da Pisa. La tripartizione di Paris-Bertoni-Viscardi è stata poi sfruttata anche da Henning Krauss in termini sociologici. La prima età andrebbe fino al 1260 circa, la seconda dal 1260 al 1300 e la terza dal 1300 al 1350. Tali età rappresenterebbero altrettante tappe di un progressivo affrancamento della borghesia dal ruolo subalterno alle classi dirigenti, fino ad arrivare al pieno potere politico, e il personaggio emblematico di tale sviluppo sarebbe proprio un imperatore Carlo Magno, che passerebbe da archivolto del sistema feudale, a maschera comico-novellistica. Ma già Cesare Segre, il grande filologo, dubitava di tale schema evolutivo. In effetti la parodia del mondo dei dodici pari delle chansons de geste era già ben vive in ambito anglo-normanno già nel pieno del dodicesimo secolo, quindi del 1100. Si pensi ad esempio al viaggio di Carlo Magno in Oriente, che pare quasi una prefigurazione letteraria della Quarta Crociata. Il genere parodico, dunque, si dimostra come costitutivo nell'ambito letterario. Pensiamo anche al carnevalesco di Bakhtin, perché è funzione di ribaltamento politico-sociale-ideologico dell'esistente, dall'instaurazione sempre possibile. Un'altra tripolarità, elaborata negli studi di Lorenzo Renzi, prende in sostanza le mosse della tripertizione che abbiamo appena visto, fondendo nella sola categoria del franco lombardo le copie e i rimaneggiamenti, trasmutando nell'etichetta francese di Lombardia le opere originali e aggiungendo ex novo la voce dell'uso vivo per Martina Canale e Marco Polo. Anche qui sono le ricadute sociologiche sul pubblico dei lettori che non convincono. Poiché Renzi parla di franco lombardo come lingua dell'epica recitata, strumento reso dato alla comprensione popolare. Ma la tale affermazione cozza con l'evidenza che gran parte dei codici contenenti opere di genere epico, dal forte tasso di mesci d'azione, franco lombarde, è stata concepita e allestita per un pubblico signorile, come ad esempio quelli citati dell'ascito Recanati alla Marciana, di provenienza della famiglia Gonzaga, e non ha inoltre negli inventari antichi alcun tipo di distinzione linguistica rispetto alle opere in francese di Lombardia. Recentissimo ulteriore tentativo di sistemazione della classificazione tipologica è stato tentato da Marcello Barbato, che proporrebbe una lettura tabellare dell'intera tradizione, organizzata per vettori cartesiani. Vediamo appunto i testi di origine francese a fondo francese e a fondo italiano, e di origine italiana a fondo francese e a fondo italiano. Ma tale sistema non tiene però in dovuto conto il processo che è posto alla base di ogni testo manoscritto in epoca medievale, non soltanto franco-italiano, e cioè la dinamizzazione indotta dal dia sistema linguistico, che deve essere riconosciuto nelle sue componenti, prima di passare ad una lettura linguistica di ciascun'opera. Esempio di scuola evidente è quello dell'antecrista, il cui unico manoscritto reca un colofon con sottoscrizione di copista, che localizza l'antigrafo a Verona. Ed è da questi dati che bisognerebbe pertanto partire, nell'analisi linguistica del nostro poemetto, la quale altrimenti rischia di risultare orfana di presupposti essenziali. La base tipologico tabellare proposta da Barbato non sembra bastare se non si è avvertiti da un punto di vista codicologico-paleografico filologico-stemmatico al limite. Esempio principe è solo caso dell'esito ons, da aus latino, da Wahlberg rubricato tra i casi di instabilità della consonante nasale, propria del vallone, un dialetto appunto francese, ma invece come noto ben tipico proprio del veronese, antico. E riandando qui la categoria di Renzi nella considerazione del tratto in questione, l'antecristo scillerebbe allora tra i francesi di Lombardia, se traguardato nell'ottica di Wahlberg, col vallone e dunque con un potenziale pubblico socialmente elevato e colto, e il franco lombardo, con il tratto derivato dal veronese, con un'udienza decisamente più popolare. Non si potrebbe cadere in una poria maggiore. Non lontano da tali prospettive si situa il contributo di Aurelio Roncaglia, il quale traspone la bipolarità dicotomica del franco italiano nel binomio traduzione versus trascrizione, che rappresenterebbe da un lato la tendenza all'italianizzazione, dall'altro al mantenimento del polo francese, che combinati insieme darebbero luogo alla lingua mista, la miche sprappe. Esempio dato dallo studioso sarebbero le forme arbitrarie trasmesse in sede di rima, ma esse talvolta non appaiono rime solo per l'occhio, come vorrebbe anche Segre, soprattutto quando il vocalismo tonico è essere inficiato dal livellamento. Come ad esempio in un'assa rima ora abbiamo vor e savor per ver e saver, vero e sapere, nell'atti della Fagellum Dei di Nicola da Canella. Sarebbero paragonabili ad un fenomeno come quello della rima siciliana, questo tipo di rime, esito della proporzione della tradizione poetica siciliana da parte dei copisti toscani. E allora la decisa internazionalizzazione avvenuta in campo non soltanto letterario, nelle repubbliche pisana, genovese e veneziana, a partire soprattutto dall'inizio del 200, sembra appunto essersi tradotta quanto dalla cultura scritta in tale appropriazione dei generi letterari praticati nell'ambito della tradizione della lingua più diffusa all'epoca, trasversale a vari strati sociali, l'antico francese appunto. Tale scelta, dichiarata esplicitamente ad esempio da Martin da Canella, come detto, si configura ad un tempo come magnete collettore di una tradizione, quella francese, che già nella seconda metà del 200 mostrava segni di esaurimento, ma anche come punto iniziale di uno sviluppo vertiginoso nella penisola italiana, che dalle chansone e dai romanci sarebbe passata ai cantari e poi ai grandi poemi in cavallereschi del 4-500. Si tratta dunque di un momento fondativo, apparentabile a quello della ledica toscana derivata dalla siciliana o a quello degli stessi federiciani, a loro volta in origine costola della tradizione provenzale. La scelta del francese quindi è stata felicemente qualificata come di metastrato da Gianfranco Foleni, una scelta culturale per il suo volto internazionale, come metastrato appunto. E da un punto di vista linguistico, la lettura del franco italiano data da Segre come Poinè appare foriera di conseguenze positive, poiché essa consente di superare la poria dicotomica di cui abbiamo fin qui parlato. Effettivamente è notevole rilevare come svariati tratti fonomorfologici, quando non addirittura lessicali, si rincorrono tra testo e testo nell'ambito della tradizione franco-italiana. E ciò depone a favore di una lettura che traguardi l'evoluzione del fenomeno con le lenti dello storico della lingua, più che con quelle del linguista di contatto. Infatti, un coraggioso studio recente della nostra Francesca Gambino, proprio sul Bovo Udinese, sostiene giustamente come auspicabile l'uso di una forma classica di studio linguistico dell'opera, secondo le categorie storico-linguistiche di grafia fonetica, morfologia e sintasso, ed è quello che appunto facciamo nel nostro volume. Accanto alla rilevazione per stringhe orizzontali dei fenomeni in gioco, proprio invece della linguistica di contatto, che tende a giustificare taluna insorgenze come esito di commissione tra due poli interagenti tra loro. Prova dell'inefficacia degli strumenti dei Languages in Contact si è proprio nello studio di Gambino sul Bovo, laddove si afferma che il diagramma CH sarebbe derivato al Bovo Udinese dal polo francese, e sarebbe un allografo, quindi un'alternativa, di C cedigliate di C, nell'ambito delle africate, che tra l'antico francese e l'antico italiano settentrionale conoscono l'avanzamento da africata palatale C, africato dentale Z, tratto che è stato definito come marchio di fabbrica del franco italiano. Vediamo però le forme accluse. Le leggete. Ora, tutte queste forme, nell'ambito delle tradizioni di scripta compresenti, notiamo che è fatta eccezione per Cierre, l'ultima, l'unica occorrenza dall'aspetto effettivamente in tutto antico francese, le altre sono tutte possibili in antico italiano settentrionale, aree in cui CH, il diagramma CH, vale per l'occasione della risorda K, quindi Cavalier, Cazè, Cadene, Blanca, Enchia, Enchia, Dechia e Cierre, che però sarebbe appunto l'unica forma antico francese. Non si tratterebbe dunque di una transgrafemizzazione, ma di compresenza di tratti delle diverse scritte CH per K e CH per C, che concorrono alla formazione di una nuova scritta. Sarebbe del resto ben strano che un diagramma perdesse in tutto la sua connotazione originaria, per trascorrere senza colpo ferire ad una nuova significazione. Ecco dunque in atto un'interpretazione potenzialmente forviante, data dagli strumenti della linguistica di contatto, che può essere probabilmente corretta facendo riferimento, come detto, alla minuta analisi della tradizione scrittore medievali, secondo categorie storico-linguistiche, non diversamente del resto da quanto si può fare per qualunque altra varietà neolatine. Ritornando quindi al concetto di Koine portato avanti da Segre, possiamo notare come nei nostri testi si è riscontrabile una compresenza di tratti derivati da quel francese internazionale che correva per il mondo, che era già lingua di Koine esso stesso perché era una mistione di più tratti diversi e di fenomeni iscrivibili all'appropriazione in ambito italiano, l'appropriazione di metastrato, quindi a una scelta culturale di adozione del francese nella tradizione linguistica e letteraria appunto antico-francese, un'appropriazione di tale tradizione. Ad esempio per il francese internazionale, leggiamo solo i tratti, possiamo notare la compresenza dei seguenti sviluppi di svariate aree geolinguistiche francesi. Per il vocalismo abbiamo il passaggio da A a E in sede tonica e atona, che è proprio dell'area anglo-normanna, da AU ad A presente anche nelle regioni d'oltremare, da O a U anche con grafia OU, pure davanti a nasale, anche per eventuali ipercorrettismo in sede tonica e atona, passaggio proprio dell'area anglo-normanna, che in taluni casi incrociata con possibili esiti di metafonesi italiano-settentrionale, riduzione del tritongo IEU in EU, con un'ulteriore possibile riduzione in E, e abbiamo nell'area altremarina una riduzione possibile in EU-IU, quindi un confronto possibile su questo punto, la riduzione di UI in U, il passaggio di ON-AAN e di OM-AM, sempre di area altremarina, e per il consonantismo il passaggio da CIOD ad africata palatale sorda, di area piccarda, di TIOD dopo consonante, sempre africata palatale sorda, sempre di area piccarda, la caduta di S finale di area altremarina, l'epentesi di N, sempre dell'area altremarina, e l'assenza dei consonanti di transizione D. Per la morfologia abbiamo il femminile da IE in IE, che è proprio dell'area piccarda, la terminazione assigmatica di ON in UN, che è proprio dei diretti francesi occidentali anglo-normanni, ma è testata anche in Veneto, oppure se non in epoca medievale, la terminazione in AU, tipica dell'oltremare, è l'I per l'A che è un tratto orientale. Accanto poi ai tratti specificamente localizzanti di ciascun testo che vengono affrontati nella nostra antologia, che non possiamo riassumere qui, si possono notare a livello più generale fenomeni che pagino convenientemente scrivibili alle dinamiche di appropriazione culturale di cui abbiamo detto, e quindi per il vocalismo il mancato rispetto della legge di Bartsch, che è tipico in realtà anche di alcune varietà francesi d'oltremare, ma nei nostri testi sarà dovuto alla scarsa consuetudine italiana settentrionale con il comparto dei dittonghi, la visualizzazione grafica in AN dell'apertura nasalizzata di N, la I irrazionale o parassita, i conseguenti fenomeni di reazione, anch'essa dovuta all'assenza di consuetudine con i dittonghi, l'assenza di E prostetica e la prostesi di A. Abbiamo poi nel consonantismo il marchio di fabbrica del francese d'Italia di nord-est, cioè l'avanzamento dell'affricata palatare ed affricata dentale di cui parlavamo anche prima, nella morfosintassi l'accordo di soggetto plurale con verbo singolare. Ecco che dunque da questi minimi comuni denominatori potrebbe prendere vita una nuova definizione per il fenomeno fin qui cotransegnato come franco-italiano. L'appropriazione di stampo culturale da parte italo-romanzo della coine francese internazionale, condotta secondo modalità di metastrato per riprendere Folena, ha potuto dar luogo ad una nuova coine, qualificabile in se stessa come coine acqua da lato. E' diffusa, secondo le declinazioni proprie a ciascun area geolinguistica, in tutta la penisola italiana. Abbiamo proposto allora, come da titolo del nostro volume, di parlare schiettamente di francese d'Italia, per segnalare come si tratta di una branca particolare di quell'espansione che tra due e trecento vide affermarsi la cultura e la lingua francesi come veicolo di espressione di cultura in tutto il bacino del Mediterraneo. Ce l'avete qui, secondo il mappamonde di Framango. Non è un caso che questa figura occorra anche nella nostra copertina. Del resto, che di francese e non di una lingua ibrida si tratti anche per i contemporanei, ce lo dichiarano le fonti di inventario di poco posteriore a quell'epoca gloriosa. Occorre infatti subito alla mente il titolo assegnato al catalogo del 1407, ce l'avete qui, dei manoscritti francesi dei Gonzaga, Capitum Librorum in lingua francigena, senza altre specificazioni. E non è un caso, credo, che con eccellente intuizione proprio la rivista associata al progetto Rialtri, francigena dal titolo, sia stata nominata seguendo queste classiche definizioni. E quindi vi ringrazio per l'attenzione. E cedo di nuovo la parola al signor Calì. Beh, devo dire alquanto complesso. Comunque il tema è decisamente per specialisti, però è importante perché molta di quella letteratura di quel periodo è in franco-italiano. Assolutamente. Infatti c'è da dire che in sostanza la tradizione franco-italiana è la diretta antenata della letteratura anche cavaleresca italiana che verrà dopo, tra quattro e cinquecento. Quindi dall'aspetto, dal punto di vista linguistico, sicuramente la questione si fa complessa, ma dal punto di vista storico-letterario è proprio la culla di gran parte della nostra letteratura. Certo, certo. Infatti per questo motivo bisogna acquistare il volume con molta tranquillità e con molta pazienza affrontarne tutte le complesse vicende. Io devo ricordare il titolo che è Antologia del francese d'Italia, XIII-XV secolo, pubblicato da patron editore a cura di Francesca Gambino e di Andrea Benetta, che abbiamo avuto il piacere di avere il nostro ospite. Io con i nomi faccio sempre figurarsi. Invece a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove insieme a questa trovate tutte le videopresentazioni realizzate fino ad oggi. Quindi Andrea, grazie ancora davvero. Grazie a lei davvero. E alla prossima. Grazie a questa opportunità. Grazie a tutti.